Il pagliaccio stava sul margine della strada vestito da pagliaccio con un megafono in mano e ogni volta che una persona passava vicino a lui la chiamava così forte per nome che si sentiva fino nelle viscere della terra. Passava gente da tutti gli angoli del mondo e sembrava che conoscesse tutti perché non solo li chiamava per nome ma raccontava anche alcune storie divertenti della vita di ognuno e, come un vero pagliaccio, poi li derideva a tal punto che volevano nascondersi sottoterra dalla vergogna, così la gente iniziò ad evitarlo. Non passava più su quella strada e il pagliaccio stava solo dalla mattina fino alla sera tardi con il megafono in mano, ma non gridava più nulla, si consumava per la solitudine, si accusava per il suo strano modo di essere che non gli dava pace. Pregava che passasse almeno una sola persona e giurava in cuor suo che non l'avrebbe derisa per nulla, anzi sarebbe stato addirittura il suo migliore amico. E, come se la sua preghiera fosse stata ascoltata, gli apparve di fronte un uomo ordinario, vestito ordinariamente, e il pagliaccio, senza pensarci due volte, portò, per via della sua vecchia abitudine, il megafono alla bocca e iniziò a fare il suo numero.